Musica Chiamo ancora un altro giovane talento da farvi conoscere stasera Lei si chiama Giulia Caproli ed è la voce, nonché la fondatrice, di una band molto particolare Che si chiama Il Velivolo Ghibli ed è stata la band vincitrice dell'edizione 2016 del Cartoon Music Contest Al Luca Comics and Games che Radio Bruno segue come media partner Questa ragazza ci è piaciuta molto, l'abbiamo voluta qui sul palco Non è sola perché è con DJ V che tra poco scopriremo, ma scopriremo anche la sua voce Io la faccio entrare sul palco e voi accoglietela con un bell'applauso a Radio Bruno Estate Giulia Caproli Facciamoci sentire Mantova Facciamoci sentire Mantova Sono arrivata in questa città Come un puntino mi muovo nel traffico Nella valigia ho i sogni che regalerà Le luci a Tokyo non si spengono mai Tutto funziona in modo fantastico Il treno arriva massima puntualità È così facile Sentirsi tra le nuvole C'è già un amico che mi aspetta adesso Per la cerimonia del te È un'estate meningiata Quella che io voglio vivere con te Guardo in alto il Fusiyama A trecento all'ora sullo Shinkansen La mia estate meningiata La mia estate meningiata Il sole nasce grandissimo ad est Il vento soffia ricordi nell'anima Non può mancare il tempo di bere un sake La notte magica Tita nadata arriverà Ho un desiderio appeso al tempio Ho chiesto di tornare ancora da te È un'estate meningiata Quella che io voglio vivere con te Guardo in alto il Fusiyama A trecento all'ora sullo Shinkansen La mia estate meningiata Giapa, Giapa, Giapa Anatta wa Watashi no Sekai desu Watashi no Kokoro wa Anatta no desu Anatta no desu È un'estate meningiata Quella che io voglio vivere con te Guardo in alto il Fusiyama A trecento all'ora sullo Shinkansen La mia estate è made in Giapa Giapa, Giapa Giulia Caproli Io voglio il tuo ombrellino Tu sappi che lo appoggerai nel backstage E non lo troverai più Facciamo un bel applauso Veronica in console Perché poi Giulia Quando c'ha la band Che fa tutto il tour Con le sue canzoni Le cuore cantoni mati Tra l'altro l'anno scorso Luca ha vinto Spacca di brutto Ve lo dico Quindi se vi capita Vogliamo ricordare Dove possono trovarvi Cioè l'elenco dei concerti Qual è il sito? Allora Noi siamo il velivolo Ghibli Il nostro sito internet È ilvelivologhibli.it Siamo su tutti i social Quindi se volete restare Sintonizzati con i nostri progetti Potete farlo facilmente E anche perché ci sono Molte novità in arrivo Quindi mi raccomando Restate sintonizzati Io invece volevo chiedere Alla nostra DJ Qual è Quale sarà l'appuntamento Il prossimo Le date a Luca Dal primo al 5 novembre Vi aspettiamo Siateci Tutti E quindi uno si può anche iscrivere Con la sua band Esatto Fra poco uscirà il bando del concorso Quest'anno sarà Red Phoenix Che si occuperà insomma Di tutta la gestione Quindi veniteci a trovare Sul nostro sito Sul sito di Luca Comics E soprattutto venite Evviva il Giappone L'estate giapponese Grazie ragazze L'estate made in Japan Grazie Giulia Grazie Grazie a voi DJ Vinic